Cos'è? Cos'è che bisogna fare? Ma anche! Uno allineato con le spade e con i piedi, eh? No di novia! No, non dico, Alice tu sei l'unica in orizzontale, tanti sono tutti quella fronte davanti quindi non si vede. Ho visto come Alice. Ecco, ci siete? Ma Dio? Via! Ma percorro, sei un'altra persona! Sento tutti robotizzati. Punto ai piedi, Teodor! Punto ai piedi e alza il bacino! Carlo sei addormentato dietro il tavolo! Carlo sei addormentato dietro il tavolo! Carlo ci sei? Io non sento la mazza! Alice, quant'è di pausa? 30 secondi! Non riesco a capire, è tutta robotizzata la voce! Tipo, tu non devi fare pausa! Io sto andando stiumando! Sì, guarda! C'è l'arte di un uomo! Sì! Guarda, adesso fa che quant'è tempo! Ma la tempo di cosa? La tempo di con gli altri Io penso se non avevo la tempo Ale è anche internet